Eccoci qua, eccoci con il nostro buon Luigino, che come detto l'ultima volta aveva fatto una brutta fine, eravamo rimasti impantanati con le iene che ci avevano fatto mazzo tanto, quindi eravamo morti male. Quindi ci dobbiamo rifare un po' di cose che avevamo fatto nell'ultima parte dell'ultima live. Avevamo piantato un po' d'erbetta, avevamo accettato un paio di incarichi e avevamo raccolto un po' di cose, quindi mo' vediamo. Sì, Fredbones, mi è piaciuto, molto molto bello. Ci stiamo impallando? Ok. Allora, prima di tutto, allora no, prima di tutto andiamo, uè, eh, con che stile? Don't worry, don't worry, tanto pian piano rimangono accumulati i video, don't worry. Aspettano voi, aspettano voi, stanno lì. Eh, le foto del baule sul dire... Oddio, quale baule? L'erba più verde, ok, quindi non abbiamo missioni secondarie, va bene. Mi raccatto solo un po' di cose, qua rimettiamo un po' di benza. Mi fa veramente caldissimo. Quanto, vedete, sti cazzo in ciò lo metti, però... Eh, qua avevamo piantato qualcosa o avevamo fatto soli fossi? Soli fossi, sì, l'avevamo fatto in mattinata. Alla fine del tunnel che non hai preso? Ah, ok, allora oggi neanche lo prenderò perché non ho conoscenza del baule. Non lo proverò mai. Allora. Rottame di gomma non ne abbiamo. Vabbè, aspettiamo prima di andare a vedere un po' di informazioni qui. Sì, sono in pari video sul canale di Sandrock. La pastora Matilda, la sindaca d'Interim, ha incaricato la polizia di stato di eliminare i Clever, la stazione dall'altra parte del canyon, durante il Fireside ieri sera. Io e... Ah, perché ci eravamo saltati la cosa che stavamo a fare la festa del ballo, noi. Vabbè. Stiamo formulando un piano e avremo bisogno di un po' di magia del costruttore e la costruttrice per realizzarlo. Passa presto dall'auto ufficio... Va bene, justice. Segui. Guarda, se vuoi io posso pure seguirla. Non è vero, non me la fa seguire. Cioè, se provo a cliccare la freccetta mi ha sempre bastato male. Vai al corpo civile. Aspetta, prima di andare al corpo civile prendiamo il muflone. Stiamo calmi. Ora, se non ci è sturbo, onestamente sì, lo vorrei continuare un pochino perché mi era piaciuto. Devo vedere quando riesco ad insinuarmi per farlo, ma... A me non era dispiaciuto per niente. Buon lavoro, buon lavoro allora. Avevamo visto che in classifica eravamo terzi, eh. Vabbè, perché avevamo fatto un bel po' di cose. E avevamo accettato, se non mi ricordo male, avevamo accettato questo qui che ci pagava abbastanza. I tubi di bronzo e le guarnizioni, mi ricordo, mi ricordo. E per le guarnizioni però mi sa che non avevamo comunque la plastica, la gomma, insomma. Mo' andiamo a gommare. Per quello ci avevano ammazzato le iene perché eravamo andati a badilare le gomme, gli pneumatici, insomma, quelli che si trovano in giro. E vediamo, vediamo un pochino se riusciamo a recuperare cose. Intanto vediamo... Di solito gomma la troviamo da quest'altro lato, quindi... Poi facciamo anche le missioni principali e quant'altro. L'origano lo lasciamo lì. Il marmo lo prendevamo da quelle pietre, però al momento magari se ci concentriamo sul... Eccole qua. Ecco, eccola, una ce ne sta. Ce ne sta solo una. Va bene. Meglio una che niente. Allora. Sì, poi avevamo preso un po' di... Sì, in realtà anche queste rocce c'erano molto utili, quelle... La rocciatura per il marmo anche, perché il marmo comunque è un'altra cosa che... Ci troviamo sempre a secco quando ci serve. Quindi, se può fa... Poi andiamo anche a piantare roba e mettiamo quel punto esperienza che abbiamo lì. E... Ok. Vai! Niente, è parlato il destriero qua, eh. Scusate, formiche. Dobbiate pazienza, ma noi qua... Dobbiamo lavorare. Dobbiamo picconare come se non ci fosse domani. Perché Luigi non è un uomo impegnato? È anche... Ciego, apparentemente, eh. All'entrata della cava, sì, però me l'avete detto, il fatto delle gomme, però è... Devo pagare il biglietto, quindi pure l'altra volta dicevamo che non lo farò a breve, nel senso in quando non entriamo là nella cava. Perché pagare il biglietto per la gomma non mi pare il caso, poi. Anche perché poi non abbiamo tempo per entrare nelle... Nelle cave, quindi è un po' uno spreco. Allora... Le cacchette le raccattiamo, perché come vedete, secondo me il fertilizzante si poppa pure con queste dopo. Grazie, Ivanf! Grazie per i 46 mesozzi! Beh, oddio, Sandrock, sì, ma calcoliamo che Sandrock ci potrebbe dare l'idea che loro stanno peggio di noi, vista l'arsura di questi territori, di questi terreni, insomma. Grazie, Zucabri, grazie per i 38! Grazie mille! Questo cos'è? Un fungo del deserto? Lo prendiamo, che se sa mai... Una buona pasta, unghie e sassiccia, e via. Allora... Funghi e sassiccia e panna, e panna. Ogni tanto gli pneumatici stavano pure qua, però, 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 però... Non adesso, non oggi. Sarà per un'altra volta. Vabbè, intanto facciamo quello che possiamo fare, poi. Poi ci si organizza, parcheggiamo. Ehi, Giovanotto! Questo è territorio mio. Se ne vada. Se ne vada. Guarda che ci lasciano pure un po' di roba, che insomma, non si butta via niente. Allora, il riciclatore lo utilizziamo per un rottame di gomma, purtroppo questo abbiamo trovato, e questo facciamo. Poi dobbiamo fare... Con la fresatrice, potevamo fare... No, noi dobbiamo fare sei tubi di piom... di bronzo. Ne abbiamo nessuno. Guarnizioni, quante ne possiamo fare? Due, ma ce ne servono nove. Eh, le guarnizioni è un problema. Vabbè, intanto facciamo questo, tanto comunque... Abbiamo un po' di giorni di tempo, eh. E... Tutto bene, tutto bene. Benvenuto anche qui su Twicciolo, allora. Benvenuto. Vediamo se possiamo craftarci un po' di acqua, perché adesso andiamo a seminare, signori. Oggi si semina, si semina. Si semina? Scusa, dov'era l'acqua da craftare qua? Eccolo qua. Ok, io non lo possiamo farci, ne mancava un altro preciso preciso, va bene. Il fertilizzante dovevamo andarlo a ricomprare, se non ricordo male, però. Lo compriamo dopo. Dopo, intanto adesso facciamo questa cosa. Allora, qua, dobbiamo andare a mettere uno di questi. Poi, acqua, fertilizzante ne abbiamo tre, ricordiamo per fare la barra intera ne usa due. Quindi, semino, acqua, ce ne eravamo accorti l'altra volta, perché una volta che ce ne era rimasto uno, riempio a metà barra. Qua, l'ultimo semino che abbiamo. E acqua. Grazie, grazie mille anche per la sub, vulpine cloud, grazie mille, benvenuto tra gli sportiveggianti, come detto, ben approdato qui su Twitch e benvenuto tra gli sportiveggianti. Grazie mille per il supporto, grazie di cuore. Spero che sia il primo mese di tanti mi accompagnia con il primal ozzo. Aspetto di aver pronunciato bene il leak, tra parentesi. Allora, aspetto un attimino che arrivi il... Eccolo. Sì, questo togliamolo da qua. No, forse prima mi conviene andare a mettere un po' in ordine nelle casse, che forse qualcosa riusciamo a lasciare. Ok, allora, che altro ti posso lasciare qua? Quello dell'agricoltura dovrei leggerlo. Eh vabbè, devo riciclare un po' di roba comunque, pure i vestiti, un po' di cose, sono da togliere. Vabbè, comunque, che cazzo fai? Sei un imbecille. Ma non dovevi prendere questo? Luigi, levati, guarda sto rincoglionito. Ma, possono rimanere fuori? Penso che vengono a rompere i coglioni? Ce l'ha rimesso qua, quello? Non che mi serva la fornace, però, pare che l'ha ripiazzata là. Eh niente, deve entrare per forza. Avanti. Il banco di lavoro è... Estensione nell'ultima voce che trovassi nelle prime... Oddio, che è l'estensione? In che senso? Vado a prendere un attimino il... Il fertilizzante dal tipo, eh. Noi, in realtà, stavamo facendo tutto ciò per andare ad aumentare il banco da lavoro, eh. Cioè, boh, stiamo a fare un po' di lavoretti per poi aumentare anche il banco da lavoro. Di livello... Ma il gioco, qualche settimana fa, l'avevo sempre versione alfa, come ho detto, eh. Parcheggiamo. Possiamo togliere questo coso. Andiamo in giro con sta cazzo di cassa tipo Hercules. Eccessivo, eccessivo. Buon uomo! Eccolo qua. Grazie Aro, grazie ad Aro 90 per i 16. Grazie per i 16, Aro. Oh, piondo. Eh, ciao, caro. Mi devi... Ho sbagliato. Sì. Dov'è che compravamo il fertil... Ah, qua. Allora, allora. Semi, semi, semi. Poi vediamo. Intanto mi prendo un po' di fertilizzante. Magari anche... Oddio, non è che costa troppo il fertilizzante, eh. Una quindicina li possiamo pure prendere. Soldi ne abbiamo. Poi... Eh, sì, poi converrebbe anche piantare altra roba, però vediamo. No, il gioco mi piace molto, come detto. Poi, se vi è piaciuto My Temet Porsi, a questo, come detto, è il seguito, quindi. Tanta, tanta roba. Per quanto, come detto, per essere ancora un alfa, è ottimo. Solo qualcosa di tecnico da affinare. Cosa abbiamo sbloccato, noi qua? Allora, 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 allora. Qua abbiamo... 10% sul problema di quanto costruisci qualcosa sulla stazione di assemblaggio. Sì, però... Ah, no, forse alcune cose della versione alfa che sono bloccate, forse può essere che so queste, eh. Ma non ne sono sicuro. Consumo del carburante rallentato del 10%. Ottimo. Questo invece che... Migliora la velocità produttiva delle macchine del 10%. Direi che fanno prima questo. Prima la produttività, tanto al momento comunque il... la benza che possiamo mettere nei nostri macchinari, ne abbiamo anche in quantità, quindi non è un grosso problema. Ora vado a vedere l'ultima riga. Poi ci dobbiamo ricostruire qualche altra cassa vuota da riempire. Cassa vuota da riempire molto velocemente. Allora, Luigi, andiamo a vedere un attimo sta cosa così ci togliamo pure il dubbio. Scendi da qua, abbiamo delle occhiaie pause. Qua finito. Quello sta macinando ancora. Banco da lavoro. Estenzio, livello richiesto, banco da lavoro intermedio. Ah, no, è un componente. Un semplice attrezzo per il fitness che può essere usato quando non si può andare in palestra. Le molle producono una tensione contro la quale spingere per allenarsi. No, vabbè, anche no, diciamo. Allora, andiamo in modalità campagna qua. E come detto, questo qua ce l'aveva il fertilizzante. Questo centrale, uno io lo dobbiamo buttare. E questo li buttiamo gli altri due e passa la paura. Ok. L'acqua ce l'hanno. Perfetto. Vabbè, poi lo veniamo a raccogliere quando sarà possibile. Nel mentre fatemi ricontrollare se avevamo sbloccato qualcosa di... Io mi dovrei fare una spada un po' più decente. Tra parentesi. Qua invece che ci serviva? Ah, questo stavamo facendo. La lastra di marmo. Ecco perché stavamo cercando il marmo. Scusa, io la lastra di marmo posso farla qua, no? Quante me ne puoi fare? Due. Me ne mancavano ancora quante. Ecco perché stavamo andando a cercare il marmo in giro. Per migliorare questo, la lastra di marmo ce ne servono un altro bel po', però per fare la lastra di marmo... Scusa, mi serviva. No, imbecille. Fermatutto. Come lo blocco? Posso bloccarlo? Prendi. Non lo so. Eh, ho sbagliato. Non stavo a fare la lastra di marmo, ma stavo usando la lastra di marmo per fare quell'altra cosa di marmo. Questa di minchia. Vabbè, mettilo così, va. Presatrice, mi raccomando, eh. No, continuo. Grazie, Grifondorobbiaggio. Grazie per i 26. Grazie mille. Sì, penso che prenderemo quell'altra. Non so come interrompere questo, però. C'è... Ah no, c'è la freccia verso giù? Yes. Ok. Mattone di marmo abbiamo preso. Lastra di marmo... Scusa. Non è vero, stavo facendo giusto. Perché me ne sono arrabbiato il mattone di marmo? Non so perché avevo letto qualcos'altro di diverso. Mi era apparso un flash clamoroso. Scusate. Scusate. Come non detto. Vabbè, poi dobbiamo andare a prendere comunque l'altro... Le altre pietre di marmo. Allora, abbiamo una spada di pietra e pugnale di pietra. Spada e scudo di pietra. Di acciaio però ancora non le abbiamo sbloccate. Come cazzo le abbiamo sbloccate noi queste qua da... Di bronzo. Vi ricordate come eravamo arrivati alla piccozza e lasciati bronzo? Se era un progetto o se le avevamo sbloccate da qualche parte? Così facciamo la stessa cosa magari per la spada. Anche se vorrei capire una grossa spada di pietra. Io vorrei un attimino capire le spade, doppie spade. Il progetto. E il progetto però di queste qua l'avevamo comprato da qualche parte, mi sa. Però non mi ricordo chi è che vendeva i progetti pure di queste cose. Vabbè, mo' aspettiamo pure che finisce quello. Nel mentre magari, come detto, ricontrolliamo qua se abbiamo sbloccato qualcosa. Di nuovo. Vabbè, il raffinatore era l'ultima cosa che avevamo sbloccato. Se non sbaglio, il riciclatore civile. Vabbè, basterebbe fare l'upgrade da quello. Nel senso, gli upgrade ti portano a livello successivo. Quindi in teoria questo qua, vedi, diventa riciclatore civile. Ma per farlo dobbiamo sbloccare un paio di cose che dobbiamo sbloccare facendo quello avanzato. Tutta una cosa. Sì, volevo mettere le doppie lame, però le doppie lame non me le dà, se non coltelli. Probabilmente sono i coltelli. Grazie Alfonso Legend, grazie per i 33. Grazie mille. Nel mentre, dai, magari mi vado a riciclare un po' di questi così libero anche un po' questo. e mi vado a prendere un po' di... di pietre di marmo. Quindi andiamo a scardinare un po' di roccia dura. Poi ci rifacciamo un giro comunque per... Per i cosi così. Allora, allora. Ma questo ci deve seguire sempre. Per carità, a volte fa comodo, ma a volte potrebbe anche desistere. C'è un modo per dirgli, accuccia, state ferme, venite a rompi i coglioni. No, anche perché noi comunque... All'inizio avevo scelto scudo e spada. Però, all'atto pratico... Io lo scudo non lo uso mai, quindi... No, vabbè, questi li troviamo anche qua, quindi... Poi facciamo... Recuperiamo un po' di pietra innanzitutto. E poi magari... Andiamo a lavorare. Meno ottimizziamo... Ottimizziamo... Qua c'è il pollo... Che non ci interessa. Qua ci stanno un po' di altre cose, ma sicuramente il pollo potrà rompere i coglioni, quindi... Vabbè, i polli li facciamo secchi molto facilmente, però non vi basate sulla capacità di eliminare i polli in modo facile, perché come avete visto... No, questo pialo... Pialo... Eh, niente, via. Eh, si è bloccato, non l'ha... Ah, no, l'ha preso. Semplicemente era di una lentezza unica nell'individuare la cattura. Allora... Anche questa dovrebbe essere una roccia. Due. Sì, penso che siano i coltelli le doppie lame, non vedo altrimenti. Ah, vedi, sta cercando di raggiungersi e si fa il giro all'asso. Bravissimo, però dai, molto fedele. Anche perché l'abbiamo pagato pure un bel po' di soldi, eh, tra parentesi. L'affitto, tra l'altro. E... Sì, sì, al momento solo su PC, poi... Il primo è arrivato anche su console, una volta completato il gioco, diciamo. Monumento. Ok. Non so perché non l'avevamo visto prima il monumento. Non lo so. Vabbè, però abbiamo preso un bel po' di marmo dal monumento, povero. Povero monumento, ma va bene. Allora, il riciclatore ha fatto quello che doveva fare. Questo lo spostiamo. Che tanto ci dà pure cosa. Alla ricerca. E fare il banco per le armi. Poi, allora, andiamo... Andiamo a fare anche quello. Andiamo a controllare pure quello. Intanto qua, magari, ci facciamo un po' di... Questo per sbloccarlo ci vuole. Mattoni di marmo. Facciamone cinque qua. E cinque qua. Così facciamo prima. Barre di bronzo. Che ci servono che me ne conta così? Non lo so, però. In nottata facciamo questo. Sono le 20 e 24. Vabbè, queste le abbiamo fatte. Queste le raccogliamo. Lastra di marmo. Quindi dobbiamo aspettare che finisce quelle per fare le altre lastre di marmo. Qui, però, nel mentre, possiamo fare... Tubi di bronzo le abbiamo fatti. Questi, nel mentre, un paio le facciamo. Poi, quando... Quando troviamo l'altra gomma. Purtroppo, gomma, non è che ne abbiamo trovata granché. Rottami di gomma... Ma non ne ho trovati per niente, figurati. Ci vorrà un po'. In carico di Sandrock, missione aggiornata. Va bene. Direi che possiamo adesso lasciare... Lasciare, se ci lascio la cosa. Con un paio di slot ce li abbiamo. Ma vediamo che buttarci dentro. In quello extra. Direi anche il fertilizzante. Fertilizzante e acqua. Nel dubbio. Allora. Vabbè. Mannamo Luigi, non dormiva. Vai Luigi, oggi a letto presto. Che almeno domani non si risvegliare incoglionito. Sennò sta sempre un po' acciaccato, Luigino. Ehm... Ora. Andiamo a consegnare quelle sei barri di rame. Andiamo... A fare... I cosi di marmo. Quelli che ha fatto qua. Ok. Ok. Qua nel mentre le mettiamo a fare le lastre... Di marmo. Fammi quelle che mi puoi fare. Sei nel mentre. Va bene. Prendo questo. Prendiamo... Nient'altro in realtà. Allora. Attiviamo la missione. Quella del... Questa qui. Così almeno una ce la togliamo. Prendiamo un po' di moneta. Se vedete una gomma, un gommone da qualche parte. Ditemelo eh. Mi sa che dovevamo sali qua. No. Vediamo se ce la faccio pure da qua. Perché qua effettivamente non ci siamo mai addentrati. Eccolo qua. Giovano! Aspetta. Tiè. Howdy! Vai. Hai visto? Sì, eh? Arrivederci. Vediamo se troviamo un po' di pneumatici da picconare. Ma sono abbastanza rari e abbastanza stronzi da trovare la gomma. Eh, il prossimo da domani. Eh, sì. Non so se faccio un video o una live. Ancora non lo so. Forse potremmo fare domani sera una live con qualcosa. Però devo vedere se riesco in giornata a scaricare qualcosa da provare. Perché... Qua sotto non ci siamo passati. Andiamo a dare un'occhiata. Però mi sa che ci stanno soli i polli. Materiali da... Da raccattare no, non ce n'è. Quindi... Quindi se domani... Dipende quando lo attivano. Non so se tipo a mezzanotte di oggi lo attivano. O c'è un orario di aggiornamento del plus. Non so se sapete qualcosa. A riguardo fatemi sap. In modo tale che magari io domani, se c'ho un orario. Vado... Sicuro a controllare. Ce la faceva salta questo? Questo fisico meglio che no. Vabbè un salto glielo facciamo qua. Ok, era meglio di no. Sì, sì, poi... No, più che banco da lavoro mi sa che era... Poi andiamo a vedere se era... Fattamente il progetto che c'è lì. Questa ce l'ha risponata. Di solito qua ce ne stavano due in realtà. Però ce ne dà sempre solo una. Per carità. Una è meglio di niente. Con un rottame di gomma alla volta ci mettiamo un mese a fare sto coso. Facciamoci un giro da quest'altro lato. Ma poi il fatto è che risponando sempre negli stessi punti... E' un po'... Un po' di coglioni. Perché i punti sono uno. E l'altra volta c'era risponato pure dall'altro lato. Però solo quella volta. Quindi onestamente non... No, qua non potevamo andare. Cioè... In realtà immagino che dovesse essere chiuso questo... Oddio comunque ti blocca una volta che ti infini là però... Allora... Qua fuori... Non c'è nada. Lì sotto pare che... Pneumatici... Mezzi lanciati... Nel terreno non ce ne sono. Qua no? L'altra volta ce ne aveva fatti trovare un paio qua ma... Eccoli qua, eccoli qua. Adesso sono risponati. Perfetto. Ci vuole un po' ma... Alla fine. Chi la dura la dura. Occhio a non prendere il cactus. Che sennò viene il biondo che ci spezza le tibie. Stiamo accorti. Poi ci sarà un momento in cui ci servirà quantità di... Di pellame abnorme. Quindi torneremo... Vabbè almeno le bestie ce ne stanno tante. Per le bestie non c'è un grosso problema. Tra l'altro noi dovremmo controllare anche... I cosi. Le piante. Rottame di gomma. Vai. L'acqua la ho raccolta io, no? Facciamoci... Un barilotto d'acqua. Anche due, addirittura. Allora, qua sta crescendo. Ci vuole qualcosa? Possiamo andare tranquilli. Che poi l'altra volta mi aveva detto che non era necessario... Poi rientrare sempre in questa modalità. L'acqua, il fertilizzante. Mi sa che si consuma prima il fertilizzante che l'acqua. Esci. Allora, allora. L'altra volta mi aveva detto... Andiamo a leggere il libro. Come si va a piantare le colture? Prendi il tuo kit per seminare nel deserto. Però l'ultima volta ci aveva... Dove posso trovare... A pagli esseri di Sandrock. Il kit per piantare. Però mi aveva detto che non era sempre necessario. Una volta fatto... Si poteva evitare. Una buona idea potenziare il tuo kit per seminare nel deserto. Il cavallo e lo Yak... La differenza è la velocità. La velocità e... Non so se l'altro parametro è tipo resistenza o cose del genere. Il cavallo naturalmente è più veloce. Noi stavolta ci siamo accontentati perché solo questo ci avevamo. Non potevamo fare altrimenti. Allora, vediamo qua qualche guarnizione in più. La possiamo fare? Eh, qua quando cazzo ci arriviamo alle guarnizioni richieste? Mai nella vita! Sta di fatto che qua riusciamo a fare l'upgrade. Signori, riusciamo a fare l'upgrade del nostro banco da lavoro. Ottimo perché poi possiamo fare quei due oggetti che ci servono. A parte il piccone e l'ascia ancora più prepotenti. E poi non mi ricordo, si possono fare gli upgrade delle attrezzature o bisogna ricraftarle. Ok. Quindi io adesso, qualora volessi fare, perché se voglio migliorare questo mi serve le uniche cose che non ho. Seghe di diaspro una e una struttura di bronzo. Seghe di diaspro la possiamo fare con la gomma, maledizione. Stuttura di bronzo. Quattro di quelli e due di quelli. Madonna, mi manca... Cazzo, quello lo dobbiamo andare a prendere nella... Stuttura di palle. Ma quelli erano rivetti di bronzo? Dobbiamo tornare nelle... Nelle grotte. Nelle grotte. Sì, sì, dovrebbero essere i rivetti. Eh, perché c'era la scritta col numero che non si capiva se erano appuntiti o no. I rivetti di bronzo me ne servono quattro, questo ne fa due per ognuno, quindi quei due li usiamo per quello e poi ci riservono gli altri. Vabbè. Entrò un'ambulanza in pompiere. Oddio, non mi ricordo il gioco però. Non... Neanch'io. Vabbè, andiamo a vedere se c'è qualche altro contratto, dai. Tanto la dobbiamo aspettare. Oddio, in realtà dovremmo andare anche alla gilda dei... Di rompi i maroni però. C'è un'altra missioncina veloce che si può fare. Può essere emergency. Però emergency non l'ho mai giocato come gioco. Mi sa che non siamo più in terza posizione. In seconda posizione addirittura. Madonna. Però, Luigi. Vola. Se ne va. Barre di rame. Barre di rame. Quante ne abbiamo? Già in possesso sette. E questo sta pagato. Questi pagano di più in realtà. Però va bene. Vetro per dire quante ne abbiamo. Già in possesso sei. Questa già sta fatta. Experien... Faccio questa allora. Vabbè, se mi dai pure questa. Di questo livello. Ma tu madre, non ce la metti. Allora, aspettate. Controlliamo qua se possiamo comprare qualcosina intrigante. L'altra volta avevamo comprato, mi sa, il barile di legno che tutto sommato servirà. Chi lo sa. Vabbè, andiamo... Andiamo a consegnare il vetro a questo punto. Che già sta pagato. Ce l'abbiamo almeno. Scaliamo la classifica come la Stone Martin, signore. Che ne sanno, che ne sanno. Magari me l'attivi diretto. La missione. Già che ci siamo. Quello ci vorrà una madonna a fare quelle... Le boccole in gomma, lì. Così. Car mechanic. Che dobbiamo fare. Ok. Andiamo a prendere... Questo qualcosa ha finito? Sì. Quindi nel mentre ne faccio qualcun'altra. Qualcun'altra. Una. Allora, vediamo dove sta il vetro. Eccolo qua. Potresti lasciarmene una dentro qua? No. Separa. A posto. Forse conveniva prima a metterlo in ordine. Ma se lo metto in ordine... Mi ributta il vetro nella cassa. Quindi andiamo glielo a consegnare prima. Poi vediamo se fatta questa missione possiamo andare a fare pure quell'altra del bronzo. Perché di solito non te le accetta quando ce l'hai appunto dello stesso livello. Però. Mai dire mai, eh. Comunque una volta fatta questa, anche se un giorno l'avevamo fatta, però. Arrivederci. E questo è fatto. E per ora cerchiamo di livellare il più possibile anche lato moneta. In modo tale che poi possiamo investire anche in altri progetti. Al momento stiamo ancora... Ah no, ferma. C'è però il tasto per lasciarlo dove... Dove lo parcheggiamo. Se non sbaglio ci stava... Il centro di ricerca stava a lavorare su qualcosa, no? L'ultima volta che ci eravamo lasciati attendevamo buone nuove. Che tra l'altro, fatemi controllare un attimo la classifica. Perché come ho detto, sto tipo secondo me, a parte che frega, non fa mai niente. Ma sta sempre là... 2004. C'ha fatto, non è vero. Allora, le ricompense... Sì, poi dobbiamo vedere che possiamo fare con quelle stelle. Wang testa grande. Per di giorno però è terza. Attenzione. Mian quarta. Attenzione, sta laggando. Miang si sta rilassando un po' troppo. Posso accettarla adesso? Bravissimo. Attivala subito. E dobbiamo fare solamente un lingottino di rame. Uno solo. Che poi... Sì, aiutiamo gli altri. Guadagniamo un po' di soldi. Però ricordiamo che... Ci togliamo risorse preziose. Volendo, volendo stare a sindacare. Ma, calcolando che appunto ci manca... Mi ricordo come si chiama quel materiale che dobbiamo andare a prendere per fare le altre barre. Quindi alla fine dobbiamo comunque tornare alle miniere. Ci facciamo una settimana. Una settimana di pass. Allora, fammene dieci già che ci stai. Così nel mentre un po' me le metti da parte. Qua rimetto un po' in ordine. E magari mi faccio un'altra cassa perché così non se può andare avanti. Allora, qua stiamo mettendo un po' di robe rando che creo bene. Miceli di fungo e il deserto. Che cazzo. Mettici mattone. Questo possiamo venderlo però, eh. Cioè abbiamo un po' di troiate che... Ma io posso mettere ad essiccare anche... Mirtillo delle sabbie. Fare i fogli. Carne essiccata. No, perché comunque poi abbiamo sempre una roba essiccata che... Ci serve e non ci serve, no. Questo mi devi fare. Ci esce un'altra di queste? No. Vabbè, mi sa che tocca... Vabbè, prima di tutto farci un'altra cassa. No, no. Ci serviva un'altra cosa che non mi viene in mente però, vabbè. Libreria in legno. La cassa stava sopra. Scatola di legno. Una scatola di legno nella quale puoi mettere... Aspetta. Era questa quella media? Sì, l'altra era la scatola piccola. Ok. La scatola di legno posso farne... Solo una? No. Eh, usa i lingotti. No. Non adesso, allora. Non adesso. Cazzo, quattro lingotti ci servono. Porco, due. Lingotti le barre di rame. Vabbè, aspettiamo che ne faccia almeno una. E nel mentre non posso neanche andare al... Alla miniera perché ho l'inventario pieno. Dove cazzo vado in miniera così? Allora, aspetta. Però, se io vado ad essiccare quello... Quello è la carne. Guarda, facciamo così. Intanto mi faccio essiccare il mirtillo che... Almeno mi tolgo quelli là di mirtilli. E sti cazzi. Ma nel mentre mi puoi essiccare anche altra roba? C'è spazio, no? No. Ti piacerebbe. Ti piacerebbe? Rottamami questi. E... Ricaricamelo un po'. Mannaggia la troia puttana. Ma perché prendi sta cazzo di cosa? Quanto odio. Perché mi viene da cliccare il classico tasto che si clicca normalmente per fare le cose. Lui no. Ruba. Mori, mettila come stava prima che non ci riuscirai mai nella vita. Metta la troia puttana. Fanculo va. Metti l'acqua. Stronzo. Ok. Volevo solo controllare l'acqua. Non c'era la necessità di prenderla. Vabbè, la possiamo lasciare pure là dietro. Tanto ci sta. Grazie Dark Merlix. Grazie mille. Con B. Ebbè, con B si toglie tutto. M, M, M. Si può lavorare così. Vabbè, ci raccogliamo un po' di... Guarda, pelle perché sicuramente la pelle ci servirà. Anzi, no, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. Qualora io volessi fare queste piccozze. E i lingotti, no, i lingotti, i lingotti, no, non ce li abbiamo. Non abbiamo niente in realtà di queste cose. Vabbè, rimaniamo così. Rimaniamo barboni. Prendo però questo, barra di rame. Vado a raccogliere anche quelle che stanno qua. Almeno ci finiamo questa missione. Perfetto. Qua dentro magari ci butti questo e questo. Andiamo a consegnare queste barre di rame. Sperando che chi ha fatto l'ordine non sia già andato a dormire. Almeno ci completiamo un'altra missioncina. In giornata. Che è una cosa buona e giusta. Vediamo un po'. Dove sta la tipa? Questo vuole una missione. Sì. Sponche vita. Il capitano è entrato qua al corpo civile. Eh, quindi mo... Il corpo civile ricordiamoci che potrebbe anche fare delle missioni per noi. Ma io non... Per quale motivo? Scusate, io devo fare un'altra cosa. Eh, c'era quella principale qua. Questa è un'altra cosa che hai pensato. Il sistema che resta dall'inizio di Sandrock? I due cable sono ancora là, ma... Abbiamo un paio di problemi. Queste devono costruire cose per aggiustarlo, non immagino. Prima, non ci sono alcuni tramcati. Secondo, i treni di trolle sono bruciati. Non mi dimenticare che sono all'altra parte del canione. A parte di questo, dovremmo controllare la integrità delle cable. Andiamo bene. Ok, questo era più di due cose. Ma, eh, non so. Mi sembra che il primo passo è ottenere alcuni tramcati. Builders. Avete capito? Non ha interrotto il colore. Vabbè, questi sono piccole cose che devono costruire, no? Va bene. Credo che sia costruibile. Ha ancora alcuni diagrammi di ultimi giorni della collezione. Devo andare a cercare e vedere se ha uno per il tramcato. Potrò tornare a te. Eh. Controlla tu, va. Non so. Grazie. Grazie, partner. Just let me know when you're done. I hate to rush you. But well, without the railroad, I don't know how long the water will last. Don't worry. Ci pensiamo noi, biondo. Heidi, senti un po'. Io... Eh, ho fatto la missione io intanto qua. Anzi, eh. Hai visto? Sì. Beccate sti pezzi. Oltre a ciò, qua, come detto, il corpo civile. Noi abbiamo 30 medagli. Con 30 medaglie possiamo prendere. Borsa delle reliquie. Ah, reliquia casuale. Oppure ci sono dei vestiti. Che figata questi qua. Punti difesa 40, potere abilità più 6. Questi li dobbiamo comprare. Va comprato il set per Luigi? Sì. Indubbiamente sì. Ehhh... Eh, vabbè. Quarzo. Raffinatore minerario che in realtà possiamo... Potremmo costruire però. Senti un po', se ti vendo un cazzo niente, va bene. Ok, appunto. Si è pagato. Qua, ok. In commissione del corpo civile. Rovine pericolose. Ti buttano giù. Manda il corpo civile a fare il lavoro sporco per te. In cambio di un compenso. Il corpo civile reperirà materiali per te da quelle pericolose zone di combattimento. Più risorse chiedi, più alto sarà il compenso che dovrai garantire. Puoi abbassare la somma richiesta allontanando la scadenza. Dando così al corpo civile più tempo per portare a termine l'operazione. Puoi dire di esplorare aree specifiche o materiali specifici. Ok. Oppure puoi semplicemente chiederlo di partecipare a una spedizione. Tuffo generale per un risultato più casuale. Non puoi pubblicare più di tre commissioni. Ok. Perfetto. Quindi questo qua, ad esempio, possiamo chiedere bottino possibile a quello là. Oppure questo qua. Ecco, ma non mi serve niente di questo in realtà, eh. Se devo dire la verità. Va bene. Quindi, vediamo se c'è qua qualcosa da controllare. Ah, attenzione. Ma qui arrestano persone. Verifica. Eh, no, no. Noi passiamo la serata a casa nostra. Possibile uscire? C'è la fila per uscire? A posto così. Allora, adesso abbiamo completato un po' di missioni per questi tipi. Ma ricordiamoci che abbiamo dato fondo a quelle che erano le nostre risorse. Quindi adesso bisogna macinare nelle grotte, signori. Bisogna macinare nelle grotte. Dobbiamo aspettare il diagramma e va bene. Dobbiamo aspettare che cresce il riso e va bene. Quindi non abbiamo nient'altro di particolare da fare se non aspettare. Aspettare. Potremmo fare anche qualche altra missione secondaria. Però, però, come detto, stiamo... Fammi controllare una cosa. Dai, giusto se c'è qualcosa che proprio ne abbiamo in abbondanza. Perché comunque è importante anche la classifica qua, eh. Eh... Non lo so, Camillo. Non ne ho la più palida idea onestamente di che cosa potessero significare quei tasti. Perché poi... Quei punti. Perché poi alla fine non... Li ho trovati come... Comprensione, diciamo. Allora, questo qua. Bastone di legno duro. Qualità eccezionale. Oppure otto vasche di pietra. Otto vasche di pietra. O tre bastoni duri. Vediamo. Eh... No, il calendario non ci dovrebbe essere niente di particolare. Mo' andiamo a controllare, però. Non dovrebbero esserci giornate... Niente di che, se non sbaglio. No, c'è solamente... La corsa degli Yakmel a fine mese. C'è tempo, c'è tempo. Grazie, Carmel One. Oh, Carmelone, che dir si voglia. Grazie per i 43. 43. 43. Tutto bene, tutto bene. Grazie mille. Grazie per l'Aresab, caro. Allora... Fermate. Allora, le vasche. Orca la troia. Sempre tasto. Otto vasche le possiamo fare proprio... Easy. Sì. I pezzi di legno è un po' più complicato. Bastoni di legno duro. Tre li possiamo fare ugualmente. Quindi, intanto iniziamo io a fare questo. Non so se le possiamo accettare entrambe le missioni, eh. Io nel dubbio... Otto vasche le faccio, ma proprio a volo. Perché sono le 19, quindi forse facciamo in tempo ad accettare, a consegnare quella. L'altra... Allora, in realtà sono due missioni di livello diverso. In realtà, missioni di livello diverso puoi accettarle anche insieme. Quindi, in linea teorica, queste qua me le dovrebbe far accettare tutte e due. Quindi... In linea molto teorica. Ma come... Ma come non me le faccio accettare con la madre zoccola? Perché c'ho quello delle gomme! C'ho quelle fottute gomme che mi impallano! Miaggia la troia. Tutte le ricompense per l'incarico aumentano il 5% se si è nelle prime tre posizioni in classifica della gilda del commercio. Ci siamo. Oppure... La ricompensa ottenuta quando si completa un incarico nello stesso giorno di emissione aumenta il 5%. Facciamo questo. Sto socializzando. Che rottura di cazzo. Dobbiamo assolutamente fare i gommoni là. Chi è che poteva vendere la gomma? La vado a comprare, signore, sti cazzi. Almeno ce lo togliamo dalle palle. Il fabbro può essere che vende la gomma? In linea teorica no. Però... Siccome si occupa un po' di tutte queste stronzate... No, infatti. Fabbro è fabbro. Tendago. Però sto pensando... Chi è che può vendere la gomma? 43,50. Pugnale di bronzo. La miniera. Perché vendevano cose alla miniera? Noi stamattina l'abbiamo presa la gomma da qua, no? Sì, infatti non c'è. Eh, perché poi si prendono... Oddio, per carità, non è che perdiamo sto granché. Però... Quei due lavori già stavano belli che pronti. No. Oddio, qua vendono questo che ci serve. Lo stagno ci serviva per fare quello che vi dicevo. Facciamo che un po' di stagno me lo compro. E... Neanche i rottami di gomma vendono... No. Non... Non saprei chi può vend... Sempre se c'è qualcuno che può venderla, tra parentesi, eh. Perché si trova veramente... Eh... Poco. E quello è il problema. Che si trova... Molto raramente. Qua davanti la potevamo trovare la gomma in mezzo a quel mucchione, eh. Lo so che lo utilizziamo, lo sprechiamo, ma signori intanto abbiamo una manicata di soldi. Questi cazzo. Se ci date i rottami di gomma, eventualmente... Eccola, uno ce l'ha dato. E buonanotte. Tanto comunque... Ehm... È già qualcosa. Uno solo però ce l'ha dato per ora. Di rottami di gomma. Che puoi già recuperare queste cose qua fuori. È parecchia roba. Tra parentesi però. Ok. Beh, conviene a quel punto. Ti prendiamo da qua e buonanotte. Paghiamo 200 a settimana, tra l'altro, eh. Quindi, insomma... Ce li rifacciamo con le missioni che andiamo a completare per i cittadini. Quindi non... Diciamo che non ci pesa così tanto, se dobbiamo dirla tutta. Qua... Non si piccola, eh. Qua, sì. Ah, di legno. Vabbè, ci stiamo. Non ci facciamo mancare niente. Questo così, eh? Sì. Sì, sì, sì. Biondo, torniamo a casa. Andiamo a mettere nella... Cosa? Rottami di gomma. Così nel mentre è inottata ce li... Ce li... Ce li macina. Eventualmente... Allora... Riciclatore. Gomma. Eccola qua. Ricarica. Anche se non è esattamente necessario. Mi servivano i lingotti di... Bronzo, giusto? Sì, adesso li possiamo fare. Fammene dieci qua. Questo sta ancora facendo come... Fornace. Allora fammene un po' pure qua. Ok. Che comunque pure questi servono. Questi poi li andiamo a consegnare. E... Ok. Andiamo a dormire. Ah, aspetta. Eh, vabbè. Aspetta. No, non so se abbiamo già della gomma. Così magari di notte una... Una di gomma ce la fa il... La fresatrice. Ce la amagazziamo. Non mi ricordo se... Smerigliatrice. Guarnizione. Una ce la può fare di guarnizione. Vai. Adesso possiamo andare a dormire. A posto. Quindi legname da consegnare ce l'abbiamo. Le vasche ce le abbiamo. Se riusciamo a fare pure sta cosa di gomma... Ce ne togliamo una. Facciamo l'altra. Sempre se non si frega qualcuno la missions. Vedremo. A presto. A presto. SCHROI